Allora, le equazioni di Maxwell sono delle equazioni estremamente importanti perché da un punto di vista proprio prettamente matematico inizialmente hanno permesso di far vedere, come vi dicevo, ciò che Faraday e la sua scuola britannica avevano soltanto intuito, cioè che l'elettricità e il magnetismo fossero manifestazioni di una stessa entità, quello che io ho chiamato facce di una stessa medaglia. La legge di Faraday è estremamente importante perché mi dice come vengano create le correnti di induzione, ma non c'era stato quell'intuito dello sperimentale, spesso lo sperimentale, senza sminuire l'importanza degli sperimentali, lo sperimentale magari va a trovare una bellissima legge come quella di Faraday Neumann-Lenz, però non riesce a vedere il quadro più completo. E il Maxwell ha avuto questa grande capacità, non lo dico da matematico ma è riconosciuto universalmente. Cioè lui da un punto di vista teorico riuscì proprio a far vedere che le proprietà dell'elettricità e del magnetismo sono proprio simmetriche, cioè se c'è un teorema della divergenza di Gauss per l'elettricità c'è l'analogo per il magnetismo, se c'è una legge di tipo Faraday Neumann-Lenz che è una legge del rotore, c'è dall'altra parte l'analogo che è la legge di Ampere. Cioè lui fece vedere queste analogie, benché stessimo parlando tra l'altro di due campi completamente differenti, perché ricordiamoci che il campo elettrico è conservativo e il campo magnetico no. Nonostante tutto sono due facce di una stessa medaglia. E la cosa veramente travolgente, scusate ma su questo sono assolutamente di parte, è il fatto che Maxwell dimostrò che l'elettromagnetismo si diffonde nello spazio come un'onda, come un'onda che viaggia alla velocità della luce. E noi faremo questi conticini adesso, ma sono veramente conticini, adesso sembra un giochetto da ragazzi. Guardate che il libro, l'ho scritto all'inizio, il libro spezzetta questa mia parte qui. Allora, fermo restando che appunto non dita a nessuno che vi sto spiegando queste cose su Wikipedia. Però voi qui quantomeno avete il vantaggio di averlo un po' più organico, ciò che il Bramanti Pagani salsa un po' spezzettato. Allora, l'articolo di Maxwell del 1865, la prima verifica sperimentale circa la correttezza dei conti di Maxwell, è nel famosissimo esperimento di Hertz del 1886, 21 anni dopo, e sono tanti, soprattutto quando una teoria è in continua evoluzione. Ricordatevi che l'elettricità nasce praticamente con volta nel 1799, la pila di volta, 1799. Quindi pensate che turbinio di ricerca, di sperimentazione e di teoria fatta nell'Ottoceni. Bene, nell'86 Hertz riesce a creare, con dei campi fortemente variabili, riesce a creare, a dimostrare l'esistenza delle onde elettromagnetiche. Le onde Hertziane, per lì vennero chiamate. Le onde elettromagnetiche che oggi ci inondano. Noi campiamo di onde elettromagnetiche, i cellulari, la TV, il Wi-Fi, sono tutte onde. E lo dobbiamo a questa intuizione di Maxwell, confermata da Hertz, e chiaramente col fatto che per la prima volta si fossero ottenute le onde nell'86, comportò chiaramente il fatto che poi l'effettiva trasmissione delle onde elettromagnetiche sia avvenuta soltanto alla fine del secolo. e ve lo ricordo, i grandi, per carità, e perché ogni, questo accade anche con tanti teoremi di matematica, che ogni nazione mette il nome di un proprio, c'è la famosa diseguaglianza di Cauchy, Bugiakovsky, Schwarz, per cui francese, tedesco e russo. Spesso accade così. Popov, in Russia, fece gli studi che intanto stava facendo Marconi. Tesla, il tanto misconosciuto, visionario, però secondo me anche un po' pazzo, Tesla, tutti lavorarono. Il primo in realtà che riuscì a portare a compimento gli studi fu Marconi, il quale, come forse già vi ho detto, praticamente fece in modo, ebbe l'intuizione che la ionosfera era in grado di far rimbalzare letteralmente, fare da specchio alle onde, per cui praticamente Marconi fece un esperimento lanciando delle onde dalla Gran Bretagna verso Terra Nova, che sta nel Canada, o viceversa, e dall'altra parte ricevettero il segnale e risposero abbiamo ricevuto il segnale. Fu il primo esperimento di trasmissione delle onde. e Marconi, diciamo, ebbe questa grande intuizione, Marconi fu il primo premio Nobel per la fisica, ebbe questa grande intuizione del far sparare le onde elettromagnetiche, le onde radio, addosso alla ionosfera che poi le aveva fatte rimbalzare. Se no, se non ci fosse stata questa intuizione, come avremmo fatto a superare la curvatura della superficie terrestre? Va bene, veniamo alle leggi. Allora, qui è molto discorsivo, quindi io mi limito soltanto a segnalarvi alcune cose. Questo qui mi dice, la legge di Gauss mi dice la relazione fra un campo elettrostatico e le cariche elettriche che lo generano. Poi passeremo alla parte più matematica. Intanto ricordiamo queste leggi. In pratica, quello che accade è che se io vado a contare il numero di linee di campo che attraverso una superficie, questo mi dà la carica totale. Più la carica totale dentro un dominio, dentro, all'interno di una superficie, è grande, più le linee di campo sono intense. Quindi, come dice qua Wikipedia, contare le linee di campo significa capire quante cariche ci siano dentro. Questo è il significato praticone della legge di Gauss. Nel caso del magnetismo, invece, vedete qua come sono le linee di campo del campo magnetico, vedete che tutte le linee di campo entrano ed escono, si richiudono. Per cui, quando io vado a considerare quante linee di campo entrano e quante escono, quelle fanno sempre zero. Il flusso delle linee di campo attraverso, del campo magnetico attraverso una superficie è sempre pari a zero. E ricordate, lo diciamo in un altro modo, perché sennò vi anticipo già l'equazione di Maxwell, un altro modo di dire questo è il fatto, sono due facce di una stessa medaglia legate dall'equazione di Maxwell, è che il campo magnetico è un campo solenoidale, cioè la sua divergenza è uguale a zero. La divergenza del campo magnetico è uguale a zero. Va bene? Questo ve lo avevo anticipato prima. La divergenza del campo magnetico è zero. E questo è legato proprio con il fatto che le linee di campo si richiudono. Poi c'è la famosissima legge di Faraday che mi dice che se prendo un campo magnetico variabile nel tempo, questo induce una corrente, quella che è chiamata proprio corrente indotta, la corrente indotta da un campo magnetico variabile. su questo meccanismo si basano le dinamo, si basano i motori, si basano i generatori di corrente elettrica. La cosa interessante è che la corrente elettrica, col fatto che viene indotta, crea un campo elettrico. Quindi c'è un campo magnetico variabile che crea un campo elettrico. E quindi vedete che leggo l'effetto di un campo magnetico con l'effetto di un campo elettrico. Ecco, vedete, lo dice anche qui. Questo è il principio, la legge di Faraday-Neumann-Lenz sta alla base del funzionamento dei generatori elettrici. Mi pare poco. L'ultima legge è quella di Ampere, molto interessante, perché Ampere praticamente la studiò nel caso di un campo elettrico elettrostatico, non variabile nel tempo. Invece Maxwell, da un punto di vista, lo ripeto, rigorosamente matematico, si accorse che se voleva mantenere la simmetria delle equazioni, aveva necessità matematica di introdurre, nel caso di campi elettrici non stazionari, quindi variabili, quella che è chiamata l'elettrodinamica, l'elettrostatica è quando il campo è statico, quindi non varia nel tempo, l'elettrodinamica è quando invece c'è variazione del campo elettrico, introdusse quella che è chiamata la corrente di spostamento. Con questa aggiunta, veramente, io ottengo un'equazione di Ampere, adesso ci arriviamo, generalizzata, che rispetta la legge di Ampere e la legge di Gauss del flusso nel caso in cui il campo diventi statico, però riesce a compensare la mancanza di simmetria nelle equazioni per il campo elettrico e il campo magnetico nel caso in cui i campi siano variabili nel tempo. Questa è un po' l'introduzione e mi è piaciuta questa introduzione di Wikipedia perché la fai in modo più discorsivo. Dopodiché arriviamo alle equazioni. Io qui ho un po' modificato rispetto al sito, l'ho retto perché il sito parte dalle Maxwell e arriva alle equazioni integrali, invece a me piaceva fare il viceversa. Allora, un po' si ripete anche questo sito, però vabbè, pazienza. Allora, l'equazione di Maxwell insieme alla legge di Lorenz che mi dice come quale sia la forza a cui è soggetta una carica quando passa dentro un campo elettromagnetico. Vedete che c'è il campo elettrico e il campo magnetico. La legge di Lorenz messa insieme alle leggi di Maxwell mi dà l'elettromagnetismo classico. Poi faremo alcune osservazioni lì dove arriveremo a tirar fuori le equazioni perché è chiaro che poi ci stanno tanti sotto-sotto casi lasciando perdere la meccanica quantistica cioè l'elettrodinamica classica non funziona a livello di atomi perché lì entra in gioco tutte altre leggi. Qui parliamo di elettrodinamica classica nel continuo nel macroscopico perché poi nel microscopico dobbiamo arrangiarci arrangiarci. Cambiamo completamente parola dobbiamo andare in tutto quel nuovo campo che è chiaramente l'elettrodinamica quantistica che è ben altra situazione. La cosa interessante è come vedete che io per poter arrivare all'equazione di Maxwell devo mettere in gioco la divergenza e il rotore. Quindi entrano in gioco questi due operatori differenziali di cui avete a lungo parlato col professore Andreucci. Allora qui vedete che ripete un po' ciò che io ho già detto cioè le equazioni di Maxwell come vedremo adesso hanno questa enorme portata che passano da un livello globale cioè lavorando con gli integrali a un livello locale cioè con derivate parziali. il livello globale sono le leggi di Gauss di Ampere di Faraday che sono tutte descritte in termini di flussi in termini di integrali curvilinei superficiali tripli le leggi da cui si parte sono leggi integrali Maxwell le rende locali le rende differenziali e allora quello che mi piace farvi vedere è come ci si arrivi allora qua la pagina di Wikipedia richiama velocemente due teoremi il teorema della divergenza detto anche di Gauss che mi dice che il flusso di un campo qui ci leggo il prodotto del campo per la normale esterna quindi il flusso di un campo attraverso la frontiera di un dominio che Wikipedia indica con V è uguale all'integrale triplo sul dominio della divergenza del campo va bene qua sia perché Wikipedia non mi ha fatto fare il taglia in colla delle formule purtroppo sia perché le ho volute un po' riscrivere in modo diciamo più consono a quello che dovessi scrivere io le ho fatte miseramente a mano ma spero mi perdoniate il teorema del rotore invece che cosa mi dice mi dice la relazione fra il flusso del rotore di un campo il flusso attraverso il rotore scuovate il flusso del rotore di un campo attraverso una superficie con bordo attraverso una superficie con bordo è pari alla circuitazione del campo lungo il bordo della superficie quindi io vado a vedere quanto sia il flusso del rotore di un campo attraverso questa superficie che non è chiusa che è a bordo bene il flusso del rotore del campo è uguale alla circuitazione del campo lungo il bordo guardate che se voi è facile da verificare penso l'avrete anche fatto quando voi prendete il flusso del rotore attraverso una superficie chiusa questo è sempre zero una volta capitò nel mio corso un esame di questo gene calcola il flusso di questo rotore complicatissimo attraverso questa superficie chiusa allora lo studente che ha studiato queste cose lo sa e non fa neanche un conto perché il flusso del rotore apriamo una piccola parentesi perché il flusso del rotore attraverso un dominio scusate attraverso la frontiera di un campo non attraverso il bordo di una superficie ma attraverso scusate ho detto male il flusso del rotore di un campo non attraverso una superficie con bordo quindi una superficie aperta in un certo senso ma attraverso una superficie chiusa perché viene zero perché la superficie chiusa è sicuramente frontiera di un dominio tridimensionale qui c'è tutto un gioco fra frontiere e bordi io prendo il flusso attraverso una superficie chiusa quella è frontiera sicuramente di un dominio ma allora applico il teorema della divergenza che mi dice che il flusso di un vettore attraverso una superficie frontiera di un dominio è uguale all'integrale triplo della divergenza di questo campo d'accordo? però attenti la divergenza di un rotore è sempre uguale a zero la divergenza di un rotore è sempre uguale a zero quindi quando voi state calcolando il flusso di un rotore attraverso una superficie chiusa quello viene sempre zero quello viene sempre zero invece qui il teorema di il teorema del rotore applicato a una superficie con bordo mi dice che il flusso di un rotore attraverso una superficie con bordo è uguale alla circuitazione del campo F attraverso quel bordo perché è importante fare il flusso di una circuitazione di un rotore perché il rotore di un campo mi sta parlando di un campo solenoidale cioè di un campo che è rotore di qualche cosa quindi è molto importante perché ve lo ripeto il campo magnetico è un campo solenoidale quindi io qui dentro ci sto leggendo comportamenti legati al campo magnetico la legge di Farad I-Norman-Lenz mi riguarda il comportamento del campo magnetico ecco perché è così importante questo teorema del rotore ma anche penso a quelli di voi che dovranno parlare dell'equazione di Navier-Stokes della fluidodinamica hai voglia lì ad avere i rotori perché i vortici di un fluido sono legati ai rotori il rotore in inglese si chiama carl che significa ricciolo proprio perché il rotore mi sta indicando quanto le linee di campo si arriccino capirai pensate alle turbolenze pensate alle turbolenze lì è tutto un vortice e quindi il rotore entrerà in gioco sistematicamente sono concetti che a voi ingegneri servono come pane quotidiano poi arriviamo scusate quindi a questo punto adesso vediamo di applicare il teorema della divergenza il teorema del rotore alle quattro leggi dell'elettromagnetismo cominciamo col teorema di Gauss che dice il teorema di Gauss che il flusso del campo elettrico attraverso la frontiera di un dominio è uguale è pari al numero di cariche presenti dentro quel dominio a meno di questa che Wikipedia chiama permittività io la conosco come costante di elettrica del mezzo chiamatela come vi pare ma insomma è la epsilon che compare sempre il flusso di un campo elettrico attraverso la frontiera di un dominio è pari alla quantità di cariche è proporzionale ecco è proporzionale alla quantità di cariche presenti nel dominio questo mi sembra sensato più ci sono cariche più il campo elettrico è potente questo mi sembra chiaro come la scrivo io la carica elettrica come abbiamo detto prima è l'integrale triplo della densità di carica magari la densità di carica non è uniforme né calcolo l'integrale triplo quindi da questa parte ho un integrale triplo adesso voglio far comparire un integrale triplo anche a primo membro che cosa sfrutto? sfrutto il teorema della divergenza che mi dice che il flusso del campo elettrico attraverso la frontiera di V è uguale all'integrale della divergenza del campo ecco qui che applico il teorema della divergenza il teorema di Gauss ma allora vedete che ho l'eguaglianza fra due integrali tripli ecco l'importanza di questi teoremi e questa proprietà vale per ogni dominio per ogni superficie ma allora vuol dire che questa eguaglianza io dall'integrale la riporto all'integrando se questa eguaglianza è vera per ogni dominio è vero che punto per punto la divergenza del campo elettrico è uguale a rho su E su Epsilon ecco che ho trasformato una legge globale integrale in una legge locale differenziale questa è adesso non mi ricordo in che ordine siano ma mi pare che sia la prima legge di Maxwell adesso qui devo stare un attimo attento vediamo la legge di Faraday Neumann-Lenz guardate qui per esempio vedete io ho bisogno di avere un campo magnetico che sia come dire di classe C1 in modo tale che io possa portare il simbolo di derivata sotto il segno di integrale cioè esistono situazioni in cui le leggi di Maxwell non vanno bene ma sono situazioni molto tirate per i capelli c'è un mio collega di Parma di Modena credo si chiama Daniele Funaro matematico che ha scritto un libro sulla generalizzazione delle leggi di Maxwell a casi molto particolari in cui il campo per dire non è C2 quindi non può rispettare certe proprietà che vedremo dopo però qui supponiamo che il campo abbia tutte le proprietà di questo mondo sia C infinito quello che vi pare allora che dice la legge di Faraday Neumann-Lenz che la variazione del flusso del campo di un campo magnetico la variazione del flusso di un campo magnetico è a meno del segno Lenz mise il segno perché capì che la variazione del campo magnetico scusate che la corrente si oppone alla variazione del campo magnetico e quindi il meno è fondamentale per tutte le applicazioni quindi Lenz ci ha messo un meno ma quel meno è stato fondamentale cioè il campo elettrico cerca di opporsi alla variazione di flusso di campo magnetico quindi si genera un campo elettrico la cui circuitazione è legata alla variazione del campo magnetico da questa legge adesso se io do per assunto che il volume la superficie su cui io sto calcolando questo flusso non cambi quindi che la normale esterna non cambi la superficie deve rimanere costante perché se anche la normale esterna cambiasse capite bene che io dovrei calcolare la derivata parziale rispetto al tempo di b per e perché anche di b per n perché anche n varierebbe nel tempo no? b cambia nel tempo e lo so ma se la superficie cambiasse cambierebbe anche la normale esterna quindi mettiamoci in un'ipotesi tranquilla la superficie non cambia quindi la normale esterna non cambia e quindi quando vado a calcolare la derivata calcolo la derivata soltanto di b porto la derivata di b dentro l'integrale va bene? adesso che faccio applico il teorema di Stokes a questo primo membro qui ho già l'integrale superficiale su questa superficie che ha come bordo ds applico il teorema del rotore a questo primo membro e quindi che mi dice il teorema del rotore? che la circuitazione di e sul bordo della superficie è pari al flusso del rotore di e attraverso la superficie ecco l'applicazione del teorema del rotore passo dalla circuitazione di e campo elettrico indotto dalla variazione del campo magnetico passo all'integrale superficiale questo deve essere vero per ogni superficie che abbia ds come bordo sapete bene che ogni superficie ha un solo bordo ma una curva chiusa pensate alle bolle di sapone proprio una curva chiusa può essere bordo di infinite superfici proprio pensate a quando soffiate per creare bolle di sapone voi ne create tante di bolle di sapone c'è una bolla che piano piano si estende ma il bordo è sempre quello quindi una superficie con bordo ha un solo bordo ma una curva chiusa può essere bordo di infinite superfici questa legge deve valere per ogni superficie che abbia come bordo ds ma allora di nuovo questa eguaglianza deve essere vera quando gli integrandi sono uguali tra di loro ed ecco che salta fuori questa non me la ricordo mai questa credo sia la quarta legge di Maxwell ma non ha importanza adesso chi sia prima seconda terza vedete attenti guardate come lego elettricità e magnetismo guardate la potenza di questa qui io sto dicendo la divergenza di e è uguale è legata alla presenza di cariche basta qui c'è solo e qua e viene legato a b cosa che non è che fosse nuova perché Faraday Norman Lenz l'avevano capito e la loro grande scoperta erano state correnti indotte vedete io sto dichiarando che la variazione nel tempo nel campo mi crea il rotore del campo elettrico la variazione nel tempo del campo magnetico è legata al rotore del campo elettrico adesso vediamo se ho tempo di fare le altre due leggi poi ci fermiamo allora nel caso invece della legge di Ampere come vi dicevo Maxwell ha esteso la legge di Ampere al caso di un campo elettrico che non fosse stazionario nel caso in cui il campo è stazionario Ampere dice questo dice che il campo magnetico generato da una corrente passante attraverso una certa curva il tipico disegnetto che si fa anche alla scuola superiore è questo di questi fili percorsi da corrente allora la presenza di questi fili di corrente crea un campo magnetico la circuitazione di questo campo attraverso questa curva qui è pari al flusso della corrente vedete qui io ci leggo la densità di corrente attraverso è pari al flusso della corrente attraverso una superficie che abbia come bordo questa curva qua questa curva è il bordo di una certa superficie quindi la circuitazione del campo magnetico sapete la circuitazione di un campo è legato al lavoro quindi il lavoro del campo magnetico è pari alla intensità del flusso della corrente attraverso la superficie che ha questo DS come bordo altra legge formidabile un caso particolare è proprio la legge di Biot-Savart di cui vi ho parlato prima allora che cosa disse Maxwell Maxwell disse ma guarda questa legge è vera quando il campo è statico se il campo non è statico quella legge non è più vera e allora lui disse beh ma io dovrò considerare anche la variazione del flusso del campo elettrico attraverso la superficie non dovrò considerare soltanto il flusso della corrente siccome il campo cambia nel tempo allora io ci dovrò mettere anche un termine che mi dice come stia variando il flusso del campo elettrico attraverso quella superficie e lui inserì questi cioè adesso non conosco bene la genesi di queste formule ma non so se lui stesso già mise qui dentro la permeabilità magnetica e la costante di elettrica qua ci ho messo nel vuoto l'ho fatta nel vuoto ma perché questo è quello che faceva wikipedia ma io qui ci potrei mettere la con la permeabilità magnetica del mezzo e la costante di elettrica del mezzo insomma questo termine qua è chiamato densità di corrente di spostamento questo fu un'intuizione di Maxwell poi che fece Maxwell la trasformò da globale al locale allora qua devo supporre pur sempre che il campo abbia una certa regolarità per cui la derivata del flusso e il flusso sarebbe l'integrale superficiale di e per n no se ho una certa garanzia di regolarità del campo elettrico posso portare la derivata rispetto al tempo dentro l'integrale e quindi questo mi diventa l'integrale superficiale di questa quantità come già abbiamo fatto prima nell'altra equazione dove abbiamo portato dentro la derivata la derivata del flusso mi si era trasformata nell'integrale della derivata di B vedete le analogie le simmetrie fra queste equazioni questo pure è un termine calcolato come integrale superficiale chi mi rimane da trasformare in integrale superficiale la circuitazione applico il teorema del rotore il teorema di Stokes la circuitazione del campo magnetico lungo questa curva è pari al flusso del rotore del campo magnetico attraverso la superficie di cui delta S è bordo ho un'eguaglianza fra integrali superficiali questa eguaglianza deve essere vera per ogni superficie di cui delta S sia DS sia a bordo ecco che passo all'eguaglianza locale differenziale questa dovrebbe essere sì adesso vi sto dicendo che sono tutte quarte leggi qui ho detto male questa è la seconda legge perdonatemi perché riguarda il rotore del campo elettrico perdonatemi questa è la seconda legge quindi le prime due leggi sono per il campo elettrico questa riguarda il rotore è la quarta legge di Maxwell rimane la legge per simmetria la legge sulla divergenza del campo magnetico ma questa me la porto gratuitamente a casa perché già l'abbiamo detto la divergenza del campo magnetico è zero perché il flusso delle linee attraverso una qualsiasi superficie chiusa quindi una superficie frontiera di un dominio è sicuramente zero è sicuramente zero tante linee entrano tante escono ma allora ecco non so perché non l'ho fatto o forse perché l'avevo fatto prima ma in caso ci aggiungo questo il flusso sarà l'integrale superficiale del prodotto del campo per la normale esterna d'accordo ma applico il teorema della divergenza questo significa che l'integrale triplo che questo flusso è uguale all'integrale triplo della divergenza di b questo deve valere per ogni dominio il flusso è zero attraverso qualsiasi superficie chiusa ma allora la divergenza deve essere zero perché deve valere per ogni dominio e quindi l'unico modo per avere che l'integrale in qualsiasi dominio di una funzione sia zero è che la funzione sia identicamente zero e questa è la terza legge di Maxwell va bene? è